Uno scontro frontale poco dopo le 9 tra quattro auto, una Fiat Punto proveniente da Castelfranco Veneto in direzione di Padova, mentre le altre viaggiavano nel senso opposto. Forse un malore del conducente della Fiat Punto alla causa dell'incidente che ha paralizzato per buona parte della mattinata la strada regionale 308 del Santo tra Loreggia e Resana, immediato l'intervento di quattro pattuglie della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese, dei vigili del fuoco e dei sanitari del suo M118. Sulla carreggiata è atterrato anche l'elicottero che ha provveduto a trasferire il conducente della Fiat Punto all'ospedale di Padova, dove è ricoverato in gravi condizioni. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. La strada del Santo è stata riaperta dopo 5 ore.